Nel posticipo serale di Iri Sera il Milan ha battuto per 1-0 il Monza e devo dire che anche in questo caso un pochino come la partita del Bologno contro Lecce è stata una partita divisa in due. Nel senso che il Milan è andato in vantaggio al 43esimo grazie al gol di Reinders però fondamentalmente dal 43esimo minuto all'inizio della partita, quindi nella prima frazione, se la frazione fosse finita 2-0 per il Monza nessuno avrebbe recriminato. Perché fondamentalmente il Monza è stato sfigato, nel senso è stato sfigato e anche fondamentalmente non concreto. Sfigato non perché abbiano avuto episodi contro della sfortuna, semplicemente perché più che altro il Milan è stato un po' fortunato, Cioè nel senso che se il Monza avesse avuto quella dose di precisione in più, quantomeno il primo tempo si ebbe finito 2-0. Dopo il gol di Reinders è scaturito da un errore di Chiracopoulos in azione offensiva del Monza che poi ha dato un contropiede e guai. Chi dirà ancora, ma Motta giochi in contropiede, sempre Zazzaroni questi qui, i fenomeni, che poi anche l'Inter, abbiamo visto anche il Milan, giocano in contropiede, nel senso non che giocano in contropiede, bensì sfruttano i contropiedi. E ieri si può dire che il Milan abbia vinto in contropiede. Ma comunque, tornando alla partita, a me, allora, concludiamo un attimo il discorso. Nel secondo tempo il Milan comunque ha legittimato il vantaggio, perché dopo il Monza a un certo punto si è innervosito, perché dopo il gol annullato a Dani Mota, che tra l'altro, minchia, me sti contatti così vegnali che poi il giocatore si butta, mi stanno sulle palle, mamma mia, quanto non li sopporto, quanto non li sopporto. Insomma, dopo il gol annullato a Dani Mota, il Monza si è innervosito. Ha perso un pochino la trebisonda, ed è lì ha cominciato a commettere errori tecnici su errori tecnici. Passaggi sbagliati, il centrocampo è calato, il Milan dopo il gol del vantaggio ha preso forza, ha preso coraggio, tant'è che appunto nel secondo tempo la partita è totalmente cambiata, nel senso che comunque il Milan ha comunque legittimato la vittoria, quantomeno sui punti, perché ripeto, adesso vedremo le statistiche, ma non mi è parso che il Milan abbia meritato in modo devastante. Perché comunque, se il tiro di Maldini fosse andato allo specchio della porta, anche se l'avesse parato Mignan, faccio un esempio, l'XG saliva. Invece lì non viene contato, perché giustamente la parla è andata fuori, quindi viene considerato come tiro fuori. Ma ragazzi, lì Maldini si è mangiato un gol clamoroso davanti a Mignan. Quindi ecco, un Milan che ha meritato e che ha legittimato, un Monza che dopo ha giocato con la forza dei nervi, un po' confusionali, tanti ero i tecnici, ma questo dipende anche dal valore, dal valore delle squadre, dal valore generale delle squadre. Comunque il Milan, ragazzi, è superiore di gran lunga al Monza. Cioè, basta vedere i giocatori che ha il Milan, i giocatori che ha il Monza. Però, ripeto, anche in questo caso non mi sento di dire il Milan è rinato. Perché comunque, ripeto, ha concesso un tempo al Monza, anche se il possesso parla è stato nettamente fuori dal Milan. Ma, ripeto, se il Monza fosse stato più preciso, se il primo tempo fosse finito 2-0 per il Monza, non ci sarebbe stato nulla da recriminare. Questo è il mio punto di vista. Perché il Milan non mi è piaciuto assolutamente nel secondo tempo, ma comunque non mi è piaciuto in generale. Poi, giustamente, il Monza ha cominciato un pochino a perdere la Trebisonda. Dopo è caduto fisicamente. Abbiamo visto anche gli ultimi minuti ieri, l'Oftus-Cic faceva come voleva, Morata faceva come voleva. Un Morata anche abbastanza nervoso. Sì, le ha prese, però già dei primi minuti inviva contro l'arbitro e a me questo atteggiamento onestamente non piace. Non piace. Morata ha iniziato questo anno un po' troppo fumino ed è un Morata che onestamente non me lo ricordo così da Juventus o in Inghilterra. Boh, non lo so. O in Spagna. Invece quest'anno ha iniziato questo anno, così vai e protesta, vai e alzi la voce, vai e sbraiti. Boh, quando il giocatore ha questi atteggiamenti, non mi piace assolutamente. Andando a vedere un pochino appunto le statistiche generali, comunque il Milan, possesso palla a favore, 56 contro 44, XG più del doppio rispetto al Monza, 2,52 contro 1,12 del Monza, tiri totali 18 a favore del Milan, 12 per il Monza. Ma ripeto, nel XG del Monza, se non vengono contati, il gol annullato a Mota, secondo me, ingiustamente, e anche il discorso del, come si chiama, del tiro fuori di Maldini. Allora, riguardo il gol di Mota, c'è stato questo contrasto, queste, però a me, quando avvengono questi contrasti, queste trattenute, che non sono veramente clamorose, cioè che veramente non prendi tiri, mi sembrano un po' cose veniali, perché il giocatore sa che appena sente la maglietta un po' tirata, si butta indietro e li fischiano fallo, e a me questa cosa, mi sta un po' sulle palle. Ok? Anche perché, forse qui, proviene una caduta da parte di un Ternandez, che è un giocatore che è indisponente in campo. Ok? È indisponente come giocatore. Quindi, sente questa trattenutina, si butta in terra, fallo di Bondoso e non erro, e poi il gol all'altra al Monza. Ma vabbè. Poi, andando a vedere, si può vedere come appunto nel primo tempo c'è stato un totale predominio palla del Milan, 62 contro 38, e fondamentalmente il Monza ha avuto un XG 0,80, che se ebbe stato molto superiore, se Maldini avesse centrato la porta, contro un E21 del Milan. se andiamo a vedere nel secondo tempo, invece, il possesso palla, 50-50. Gli aspetti di golpe di Milan, 1,32, quindi bene o male uguale, ma il Monza è passato da 0,80 a 0,32. E questa è una cosa importante, cioè nel senso, un dato importante. Dovevi attaccare, ti sei fatto prendere la foga, in prisione tecnica, nei passaggi, nei lanci, e questo è il risultato. Hai avuto un 0,48, in meno di XG. Quando tu invece hai messo giocatori offensivi e ti sei schiacciato, tra virgolette, in avanti. Devo dire che entrambe le squadre hanno giocato molto sulle medio-lunghe distanze, quantomeno a passaggi, perché comunque anche il dato dei passaggi totali, Bassini, è 3,59 per il Monza, 4,71 per il Milan. Quindi non sono dati molto a favore della manovra. Sono dati di giocate che hanno portato le squadre a giocare appunto sulle medio-lunghe distanze. Quindi passaggi a scavalcare il centrocampo, pochi dialoghi sullo stretto e tutto quanto. Dato che ho fatto due video a riguardo, Leao, Leao, si è mangiato un gol, dopo tutto, ha fatto una bella azione, ha una prestanza fisica imperdonabile, molto importante, e dopo l'ha sparata in tribuna. Ok? Quindi un pallone l'ha sparata. Ma ripeto, a me, Leao, non lo so, ripeto, non vale quello che viene fatto sembrare, né in termini economici, né in termini di economia di squadra. anche perché lo si vedeva a difendere, però lui stava fermo. Era, diciamo, poco più avanti di Ternandez, ma era così. Aspettava. Che cacchio aspetti, va a pressare, fai qualcosa, santo cielo. Stava lì. Stava, sette otto metri, l'avversario lì così, fermo, che dinoccolava. mamma mia, quei capelli, una bella terra d'orecchie. Poi, andiamo ora a vedere i calendari delle squadre. Perché? Il Monza viene da un periodo altalenante. Analizzando, le ultime sei ha fatto due pareggi, una vittoria, ma ben tre sconfitte. E, in questo mese, avrà Lazio, Torino e Como. Quindi, non dico che con la Lazio debba far risultato, per forza, perché ci potrebbe stare una sconfitta, soprattutto il Monza è una squadra che è discretamente in difficoltà, ma dopo ha due trasferte tanto difficili quanto alla portata. Quindi, quella col Torino e quella con il Como. Quella con il Como che, secondo me, il Monza potrebbe fare risultato. Andando al Milan, invece, ovviamente il Monza adesso è chiamato a fare comunque dei risultati, perché, ripeto, la classifica è deficitaria. Undicesimi, scusate, Cavalca, quindi Monza potenzialmente in zona di successione. Andiamo a vedere il Milan che, anche qui, viene da il discorso della sconfitta contro Napoli, dello spostamento della partita contro il Bologna, ma in campionato avrà Cagliari, Juventus ed Empoli. Anche in questo caso, secondo me, Juventus ed Empoli possono creare problemi al Milan. Il Cagliari è un po' da vedere, però, è da considerare che, prima di Cagliari, hanno Real Madrid e prima dell'Empoli hanno lo Slovan Bratislava. Non dico che la trasferta a Madrid potrebbe pregiudicare, potrebbe inficiare sul rendimento della partita contro il Cagliari, ma comunque bisogna sempre stare attenti, perché il pallone è tondo e il Cagliari è una squadra tanto in difficoltà quanto un po' in famella, perché poi magari con la partita della Zecca e il Piccoli della situazione che già nella scorsa stagione ha messo in difficoltà il Milan potrebbe fare qualche scherzettino contro la Juve. Ripeto, adesso la Juve ha il netto della vittoria contro l'Udinese e un po' sempre da tripla contro l'Empoli anche qui da vedere, perché è una squadra che è 12esima in classifica, che ha un un bel rendimento, che sta alterno movimenti positivi a momenti negativi, però potrebbe essere un pochino un problemino per il Milan, anche se presumo che il Milan potrebbe vincere, ma anche il Milan come la Juventus in questo caso è da tripla. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti della vostra impressione sulla partita, statistiche nettamente a favore del Milan, ma il cruccio è quello. Se il Milan avesse concluso il primo tempo in svantaggio di due gol, nessuno poteva dire niente e lì magari la partita sarebbe cambiata. Con Iseconima la storia non si fa ed è vero, però è un dato di fatto che il Monza uno in gol secondo me è stato annullato in modo assurdo e Maldini si è mangiato un gol, dopo si è voluto parlare magari di un'altra partita, però voglio dire sta anche una grande squadra vincere queste partite sporche. Maldini per la partita però tanto impreciso. Fatemi sapere nei commenti la vostra vi mando un abbraccione e ciò al prossimo video. Ciao ragazzi!